Aumentano i giovani che si fermano alla scuola media e non trovano lavoro. Lo dice il sesso rapporto Istat-Best 2018, il benessere eco e sostenibile in Italia, pubblicato in queste ore. Lo scorso anno i giovani di 18 e 24 anni, con la licenza media che non sono inseriti in un percorso di istruzione o formazione, erano il 14%, lo 0,2% rispetto al 2016. Il vero dramma è al sud, a partire dalla Sicilia, dove la quota di mancata partecipazione al mercato del lavoro e occupazionale raggiunge il 40,8%, 10 volte di più rispetto a Bolzano. Anche la percentuale di persone tra i 25 e i 64 anni con almeno il diploma è molto più bassa della media europea, 60,9% contro il 77,5%. Marcello Pacifico di Anief Cisal commenta Questi dati Istat ci confermano le difficoltà dei giovani nati nelle aree del paese, prive di agenti culturali e di quel sostegno sociale necessario a supportare i giovani che presentano difficoltà a scuola e appartenenti a famiglie non in grado di sostenerli. È in questi contesti che diventa decisivo introdurre il tempo pieno e prolungato, un obiettivo che non si può di certo centrare, assumendo appena 2000 maestri alla primaria ogni anno. Servono poi organici differenziati per territorio, con maggiorazioni da prevedere nelle zone a rischio, con alto tasso dispersivo e di stranieri, puntare alla continuità didattica attraverso l'assorbimento del precariato con la riapertura delle GAE, operazione indispensabile per evitare i licenziamenti dei docenti precari abilitati, legiferare sull'inalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni con contestuale anticipo dell'avvio scolastico a 5 anni.